In chiusura, come sempre, una pillola di educazione finanziaria a cura di Giusy Biondelli e Maurizio Poli. Noi ci rivediamo dopo la pubblicità per la seconda parte di Sviluppo e Territorio. A tra poco. Buonasera. Questa sera iniziamo a parlare di protezione e di mappatura dei rischi per le aziende. Il primo strumento che vediamo, Maurizio, è lo strumento per la cyber risk, per la cyber security. Ne sentiamo sempre parlare. Protezione dall'attacco informatico. Molte aziende e professionisti sono stati soggetti ad attacchi informatici che bloccano la produzione, ne bloccano la reputazione, ne bloccano soprattutto l'operatività quotidiana. Quindi la protezione fatta con questo attacco subdolo che viene nelle imprese. Quindi proteggere come? Con una polizza. Quindi una polizza che possa proteggere da questo attacco, che possa darmi una mano nella sostituzione di tutto quello che è l'hardware, quindi tutto l'hardware dell'azienda, ma anche a proteggermi nella mia reputazione online. Ma quindi quali sono le vere aree di protezione? Qual è l'area da cui coprirsi, da cui tutelarsi? L'area da cui tutelarsi è soprattutto il patrimonio aziendale, quindi anche per aziende operativi, il patrimonio di un professionista, un commercialista, se viene attaccato e viene preso all'archivio dati del commercialista, con la minaccia di essere divulgato. Quindi cosa può fare un imprenditore? Cosa deve fare? Come in quel momento lì di tensione e di paura, dal punto di vista reputazionale, dal punto di vista professionale? Alcune compagnie di diritto anglosassone mettono a disposizione dei professionisti, degli avvocati, di chi nel digitale ci sta per tamponare e mettere a disposizione dell'impresa tutte le soluzioni tecnologiche e dal punto di vista legale per la protezione dell'azienda con del denaro al momento opportuno. Quindi ci sarà la protezione e anche risarcimento danni, qualora ci sia una richiesta di risarcimento danni, per le informazioni divulgate anche impropriamente. Ma anche, dico, penso, la tutela della reputazione. Soprattutto la reputazione online per le imprese e per i professionisti. Quindi andare a mitigare tutte le informazioni che l'internet ci mette a disposizione e mitigare queste informazioni con dei professionisti pagati dalla compagnia per mitigare la reputazione aziendale. Quindi mi raccomando, riflettiamo su questo strumento di protezione. È importante proteggere le nostre aziende da chi vuole inserirsi impropriamente in maniera negativa. Quindi proteggiamo le proprie aziende dall'attacco informatico. Alla prossima!